Voi pochi che siete venuti qui a iscrivervi oggi pomeriggio a questo ascolto, poi alla fine vi interrogo perché è veramente una lezione che Merchiore e Gioia fa sul piano etico-morale, sulla società in generale, anche dal punto di vista un po' filosofico e quindi non è un raccontino da nulla. Il mio problema per leggervi questo testo è quello di fare finta, come del resto il mestiere degli attori, di essere Merchiore e Gioia. Io potrei liberarmene dicendo qui c'è scritto così, adesso ve lo leggo, poi lo arrangiate voi. Invece ho avuto bisogno di capire, di entrare, si tratta di 200 anni fa, insomma, siamo nell'illuminismo, siamo in una situazione di passaggio che si travede benissimo in quello che dice lui e quindi ho bisogno di leggere capendo io per la seconda volta, nel senso che l'ho già letto ma non so se ha capito bene tutto, leggendo, cercando di capire esattamente quello che devo trasmettere, se no sarebbe già difficile. È comunque un testo abbastanza semplice, non è una roba di filosofia astrusa, non ci sono termini particolari. La scrittura è quella del Settecento, però, insomma, è comprensibilissima. Si tratta naturalmente di un testo etico-morale, politico soprattutto. Noterete come molto spesso vi verrà come un suggerimento ad attualizzare quello che sta dicendo. Oggi questo testo è così sorpassato oppure è attuale a voi la sensibilità e la decisione di capire dove, come e quando. Del merito e delle ricompense. Lui lo sottotitola Trattato storico e filosofico di Mecchiore e Gioia. Lui mette già una prefazione al suo testo. Più centinaia di volumi versano sui delitti e sulle pene. Solamente qualcuno sul merito e sulle ricompense del merito. Forse di questo fenomeno sono tre le cause. Gli uomini, in generale, sono più disposti a punire che a ricompensare. La pena è dimandata altamente dal sentimento della sicurezza, mentre alla ricompensa soppongono l'interesse e la vanità. Altro motivo per cui esistono pochi libri che trattano delle ricompense. Forse perché gli scrittori dello scorso secolo, si riferisce quindi al Seicento, si mostrarono più inclinati a censurare le dannose operazioni dei governi che ad encomiarne quelle utili. Terzo e ultimo punto. Sapendo che il merito è sempre modesto ed alieno dalle brighe, sapendo che le ricompense sogliono essere carpite dagli adulatori o dai ciarlatani, forse i sullodati scrittori non sperarono gran vantaggio dalla discussione di questo argomento, per cui ne deduceva che pochi hanno scritto dell'argomento delle ricompense e del merito. Prevalse in parecchi moralisti dello scorso secolo l'uso di presentare dei principi assoluti senza distinzione e senza prove e avvolgerli in frasi sentenziose secondo metodo degli oracoli. I primi, cioè i principi assoluti, adescano la vanità vogliosa di decidere presto e dogmaticamente di tutto quanto riguarda le anomalie. Le seconde, cioè le frasi sentenziose, essendo pungoli al bisogno di sentire, divengono argomenti di verità nell'animo dei lettori più neghittosi. Persuaso che questo metodo rende i giovani presuntuosi e superficiali, ho creduto di dover seguire la via dei fatti ed esporre nel tempo stesso l'origine e le prove di quello che dico, l'estensione e i confini dei principi che devono dirigere nelle operazioni economico e sociali. Consiglio quindi i ciarlatani, grandi e piccoli, a non leggere questo scritto e quindi in questo caso a non ascoltare le mie parole, perché leggendolo o ascoltandole essi diverrebbero come il pazzo di Orazio che si lagnava dei medici che l'avevano guarito. Questa era la prefazione. Quindi è una lezione morale che tutti voi, poi vi interrogo se siete... Libro primo, non abbiate timore, la lettura non dura più di 40 minuti. Libro primo, poi potrei anche fare a meno di citare il libro, intanto è stato scelto, selezionato dai nostri collaboratori dell'IBC. Si parla del merito. Le idee che nella mente degli uomini corrispondono alla parola merito sono, come tutti sanno, infinitamente diverse. Esse cambiano ad oggetto, di grado, di scopo, di misura, non solo tra popoli e popoli, ma anche tra classi e classi nella stessa città. E certamente va a differenza infinita tra la nozione di merito del selvaggio, che desume il suo merito dal numero dei nemici trucidati, e la nozione di merito dell'uomo incivilito che lo deduce dal numero delle persone che beneficò. Forse ugualmente i discordi nei loro giudizi sono quelli che pongono per base di questo calcolo le immagini degli avi e quelli che ad esse, agli avi, sostituiscono gli strumenti nuovi che sanno maneggiare oppure che hanno inventato. Tra tante nozioni diverse sul merito, però quello che ottiene maggiore suffragi è quello che riunisce in sé le quattro seguenti idee. Primo, la difficoltà vinta. Quando si dice una difficoltà ha un merito. Secondo, l'utilità prodotta da questo merito. Terzo, il fine che deve essere disinteressato e non con un interesse personale. Quarto, la convenienza sociale che sia utile a tutti. Cosicché le azioni in cui questi quattro elementi compariscono, uniti in sommo grado, sono riguardate, almeno tra i popoli inciviliti, come sommamente meritevoli, cioè degne della stima universale. Vi ripeto, difficoltà vinta, utilità prodotta, fine disinteressato e la convenienza sociale. Quindi vediamo ora i sintomi di carattere spreggevole e corrotto negli individui delle persone. Uno è il vanto della nascita nobile. Naturalmente siamo nel Settecento. La data non ce l'ho qua, ma deve essere forse prima ancora. Allora è già stata la rivoluzione francese, per cui i nobili sono molto sotto l'occhio nel mirino. Quindi i vanti della nascita nobile. Chi è debole cerchi il bastone, chi ha corta la vista apprezza gli occhiali. In generale si valuta il soccorso esterno in ragione della propria debolezza. Perciò la nascita nobile non è di per sé riguardata come titolo di merito e non suole essere vantata se non da chi manca di qualità personali. Secondo, si parla dello sdegno all'idea della primiera bassezza, quindi della propria bassezza. Dalla stessa mancanza di qualità personali, unita a carica più o meno eminente o da ricchezza subita, cioè ereditata, era guardevole. Nasce lo sforzo di cancellare qualunque memoria del basso stato da cui si partì per salire poi in alto e quindi l'irritazione contro tutto ciò che lo riproduce alla mente. Forse oggi se ne fa vanto invece. Io che sono nato da zero sono arrivato là. Poi c'è il fasto smisurato. L'uomo piccolo, volendo essere costante oggetto degli altrui sguardi, pensieri, discorsi e non potendo fermare l'altrua attenzione con l'immagine multiforme e grandiosa di pregi individuali, è costretto a ricorrere allo sfoggio di ricchezze e ad ogni specie di apparenze esteriori. Il concetto è molto semplice. Quindi c'è il nepotismo ecclesiastico e civile, allorché la vanità personale prevale sull'interesse pubblico, cioè quando si preferisce uno splendore locale e momentaneo alla vera gloria, ossia l'ammirazione vera e riconoscenza dei contemporanei e dei posteri, si usa allora ogni genere di potere per ingrandire la propria famiglia e quindi innalzare i membri familiari alle cariche più sublimi, in onta della loro incapacità, dei loro vizi e dei loro difetti. Quindi parliamo dell'importanza delle cose piccole. Un uomo che si vanta di essere eccellente in una inezia dà segno di mancare di tutte le virtù del suo stato. Il piacere, allorché vi si abbandona con eccesso, assorbe tutta l'attenzione e la consuma senza prodotto. Si rassomiglia allora ad una donna che, esercitata nella civetteria, dà alla più grande importanza la sua toletta e all'arte di sfoggiare la sua bellezza quando essa copra il vuoto che c'è sotto. Quindi abbiamo l'ostinazione nell'errore. Altra cosa riprovevole. Le anime piccole aspirano al vanto di comparire infallibili perché internamente persuasi ad essere piccolissima la stima che meritano. Temono quindi di restare affatto prive di esse, queste stime, confessando le stime di essersi sbagliate su di loro. Il terrore quindi di essere scoperti, di non valere nulla. Quindi abbiamo la dilazione non necessaria negli affari. La dilazione, cioè il rimandare, suole essere la prudenza delle anime deboli. Sentendosi incapaci di ultimare un affare, lo protraggono all'indomani, così successivamente, ancora all'indomani. La somma degli affari arretrati poi, se non misura esattamente l'imbecillità e la debolezza di un amministratore, ne presenta almeno un'idea abbastanza completa, un incapace. Quindi abbiamo la differenza tra bene e potere. negli uomini attivi e virtuosi, la somma dei desideri benefici di fare del bene, supera il potere di cui sono forniti. Negli altri, gli inferiori. Cioè, fare di più di ciò che posso è il bene. Fare meno di ciò che potrei fare è il male. La differenza tra il bene eseguito e il bene che potrebbe si eseguire mette in evidenza i gradi di stupidezza, di egoismo o di cattivo animo esistente sì nei privati cittadini che nei pubblici funzionali. abbiamo quindi renitenza, dico abbiamo sempre per chi sono numerati, ma non sto a dire il numero 10 perché nessuno calcolerebbe qui a che numero siamo arrivati, dico solo il titolo fatto della piccola dissertazione. Abbiamo la renitenza, la pubblicità negli affari amministrativi. Cui male agit odit lucem. Latino qua, zero, ma c'è la traduzione. Chi fa il male odia la luce. È una massima che non i sbaglia. Prescindendo dai casi di privata modestia, forse è ugualmente vera quest'altra massima. Chi odia la luce opera male. Infatti, siccome ciascun amministratore brama alla pubblica stima e tenta con tutti i mezzi di assicurarsela, perciò la somma delle azioni che gli sottrae o lo sguardo del pubblico mostra in lui la persuasione di meritarne il disprezzo. Se no, farebbe luce su quello che fa. Viene sempre in mente qualcuno o qualcosa che ha a che fare con l'attualità. Quindi abbiamo lo spaccio di protezione o vendita di fumo. Si cerca spesso di supplire alla mancanza di merito personale con l'associare l'idea del proprio individuo, cioè di se stessi, all'idea di personaggi grandi e potenti. Quindi se ne vanta la conoscenza, l'amicizia, la parentela e talvolta si giunge a vendere una finta protezione in cambio di omaggi reali. Beh, qui siamo in pieno secolo XXI. Infine abbiamo il ciarlatanismo. Non è infine, ce n'è ancora un altro, anzi altri due. Il ciarlatanismo. Si riconosce il ciarlatanismo dalle pretensioni che annuncia e dall'entusiasmo che si sforza di eccitare nell'altrui animo. Benché abilissimo a fingere, egli si scopre nevanti che gli sfuggono suo malgrado, ossia nell'impossibilità di essere modesto. Come il genio, egli si scosta dalle vie ordinarie, ma se il primo, il genio, parla alla ragione o ai sensi, il secondo, il ciarlatano, si dirige all'immaginazione, alla fantasia, all'invenzione. L'enorme differenza tra la stima che merita un soggetto e la stima che il ciarlatano vorrebbe infondere negli altri, quindi la differenza tra l'utilità reale e l'utilità promessa, serve a misurare i gradi del ciarlatanismo. Nell'ignorante di buona fede e nell'uomo appassionato si trova talvolta esagerazione consimile, ma in questo va unita alla sincerità, mentre in quello, nel ciarlatano, è sempre associata la menzogna, la quale si scorge nei discorsi misteriosi, nelle reticenze affettate, nelle ombre, insomma, in cui il ciarlatano si avvolge. Spesso viene da dire quando si sente parlare qualcuno, non ho capito niente, ma ha parlato molto bene. Abbiamo la curiosità negli affari altrui. A misura che si manca di pensieri propri, si cerca di pascersi di quegli altrui. L'attiva brama di sapere ciò che si fa, ciò che si dice, di conoscere i loro interessi, le loro faccende, le loro affezioni, le loro animasità, svela un'anima piccola e disoccupata. Infine abbiamo la disposizione a svelare le altrui debolezze. La vanità si pasce di rovine e si lusinga di innalzare di tanto se stessa di quanto deprime gli altri. Quindi la disposizione a svelare le altrui debolezze è alquanto estesa. Questa disposizione è tanto più forte quanto è maggiore la persuasione della nostra nullità, della nostra di quello lì, del ciarlatano. Oppure questa disposizione è tanto più forte quanto è maggiore la persuasione dell'altrui merito. Si nota che l'altro è più importante, più forte, più meritevole, allora bisogna... Per indicare sensibilmente il carattere delle persone invide e maligne, Franklin suppone di avere una gamba contraffatta, cioè fatta male, ed una gamba bella, e consiglia a diffidare di coloro che dicendogli mai nulla della bella gamba, gli parlano sempre di quella contraffatta. Come dire... Sì, però... in generale quelli che cercano di porre in evidenza gli altrui difetti, nascondendone le belle qualità, dimostrano o mancanza di merito o animo ammalato. Gli accennati sintomi farebbero duopo, farebbe duopo a questi accennati sintomi, aggiungere quelli che dimostrano l'uomo donnaiuolo, difetto che si trova più o meno presso tutte le nazioni incivilite. Seneca ha posto l'abitudine di grattarsi la testa con timido dito tra i segni più manifesti di lussuria ed impudicizia. I contemporanei osservarono questo sintomo in Cesare e anche in Pompeo. Pare che gli antichi traessero questo sintomo dalle donne stesse, sempre paurose di sconciare, la loro capellatura. Che che sia di quel sintomo fa duopo osservare relativamente alle conseguenze dell'accennato difetto che Antonio perdette alla pubblica stima e il potere da che si diede in braccio a Cleopatra. E che se la morale di un sovrano non debba essere quella di un cappuccino, è fuori di dubbio che lo scontento pubblico cresce contro di lui in ragione del potere che gli lascia le donne nella distribuzione delle cariche e degli onori. Roba del Settecento. Sezione quinta del falso merito. Il credito che ottengono i falsi meriti produce nel sistema morale quei movimenti convulsivi che nel sistema commerciale produce l'atterrazione delle monete, cioè le monete false quindi. Un principe che fabbrica monete false, il cui valore intrinseco sia molto minore del valore plateale, fa scomparire dalla piazza le monete buone e dà un interesse ai monetari falsi di contraffarle. La circolazione o il successo dei falsi meriti dipende in generale dalle stesse circostanze da cui dipende la circolazione delle false merci o monete false. Queste circostanze sono bisogno e ignoranza dei compratori, da un lato interesse e destrezza dei venditori dall'altro. I piazzisti. Siccome poi a quasi tutti i falsi meriti venne applicata una tinta religiosa, quindi non deve recare meraviglia se questa specie di merci più largo spaccio ottenne e più costante. Infatti, da un lato, gli scrittori sacri e profani, antichi e moderni convengono nel dire che il volgo è così avido di idee false e superstiziose, di sentimenti erronei ed esagerati, come avido di acquavite, di tabacco o simili stimolanti. Dall'altro, ovunque si mostra nel pubblico un bisogno di comprare un oggetto, sorgono produttori e venditori per fabbricarlo e diffonderlo, quell'oggetto. La comparsa di impostori in mezzo di un popolo zotico è così naturale come lo è la comparsa di fabbricatore di cedole false tra un popolo commerciante. Quindi, in tutti i secoli si scorge una lotta tra le persone sagge, che difendono con loro pericolo la solidità del merito e la semplicità della religione. Da un lato e dall'altro i falsari, che tentano ad adulterarla e corromperla. Questo merito e questa religione talora, per sconsigliato zelo, per lo più in mala fede. Esempi sui falsi meriti nell'apparenza religiose. Siccome la naturale ignoranza tende a rendere l'uomo considerato individualmente un animale pusillanime, socievolmente un animale feroce, perciò sembra, a prima vista, cosa strana che si sia giunti a ravvisare qualche traccia di merito nell'ignoranza. Tre falsi motivi riuscirono a produrre questa illusione. Si fece osservare al volgo, primo motivo, si fece osservare al volgo che lo spirito umano è naturalmente curioso e che il sacrificio, cioè la rinuncia di questa curiosità, deve essere gradevole all'essere supremo. No. Il che equivale a dire che egli ci ha dato gli occhi per non vedere, le mani per non toccare, l'intelletto per non conoscere? E che ha fabbricato un'opera sublime qual è l'universo, a condizione che non l'ammiriamo? Secondo, si fece osservare al volgo che i filosofi sono caduti in errori gravi, anche speculando sulla religione, quindi in più gravi deve cadere chi di minori talenti e dotato. Il quale argomento è poco diverso dal seguente. Fa duo può guardarsi dal navigare sul mare, in qualunque modo, con qualunque precauzione, perché successero dei naufragi, anche famosi. Si fece osservare al volgo, e terzo, che nessuna cosa merita ad occupare lo spirito umano, fuorché la religione. Il che vuol dire che il vascello è fatto per le vele e non le vele per il vascello? A questa stortissima idea induce il volgo a preferire le cerimonie del culto ai doveri della società, cioè a sacrificare il fine al mezzo, imitando l'avaro che comincia a ricercare il denaro per ottenere i beni che rappresenta quel denaro e finisce per dimenticare i beni e restarsi a possesso del denaro stesso. Allorché il Parlamento d'Inghilterra, nel 1555, fece rimostranze alla regina Maria perché fondava dei nuovi monasteri, mentre il pubblico tesoro era esausto, la regina rispose «Io preferisco la salute della mia anima a dieci regni di Inghilterra!». Con la quale risposta questa regina, Pettegola, dimostrò di ignorare che non poteva salvare la sua anima danneggiando la nazione e la popolazione. Insomma, dall'agricoltore che maneggia l'aratro fino al sovrano che dirige la macchina sociale, beh, una somma crescente di mezzi, di relazioni, di bisogni, di doveri ai quali non si può corrispondere senza una somma crescente di cognizioni d'ogni specie. Che che ne sia è fuori di dubbio che l'ignoranza fu da alcuni riguardata come un merito, del che fanno fede, i seguenti fatti. Lui li esegue con un confronto tra le merci profane e le merci sacre, cioè tra la merce e la religione. Merce I mercanti procurano descludere la luce dalle loro botteghe, a ciò i compratori non distinguono i difetti delle merci e accettino le cattive o infime per ottime. Religione I sacerdoti gentili eseguivano le loro cerimonie in antri oscuri, a ciò l'immaginazione degli spettatori, colpita da incerte apparenze, non venisse disingannata dallo sguardo. Merce A fine di accreditare le loro merci, i mercanti danno loro un'origine straniera, lontana, famosa, e le dicono giunte da Parigi, da Londra, dall'Olanda, dalla Cina, o fabbricate da speciali celebratissimo artista. Religione Il Papa Stefano III, per indurre Peppino, re di Francia, a discendere in Italia e difenderlo dai Lombardi, gli spedì nel 756 una lettera, come scritta da San Pietro stesso nel 756, nella quale questo santo parla in persona propria, quasi fosse sulla terra o la mandasse direttamente dal cielo. Merci Appena una stoffa di buona qualità, o d'altra merce qualunque, ottiene credito presso il pubblico, sorgono più fabbricatori che la contraffanno con materie meno costose, tentando di usurparsi anche il merito dell'invenzione. Religione Appena Cristo ebbe predicata la sua purissima e sublime morale, Dositea si presentò come il Messia promesso ai giudei, Simon Mago si chiamò la suprema potenza di Dio, Menandro vuole farsi credere in Salvatore e così via. Merce Il pubblico fu spesso ingannato da false monete, false gemme, false medaglie. Religione Il pubblico fu spesso ingannato da farsi miracoli, farsi reliquie e farsi indulgenze. Siamo nel Settecento, l'indulgenze si erano ancora pagate, care e lavavano tutto. Merce Tutti i ciarlatani vantano l'efficacia indefinita delle loro pillole, droghe, l'isir, alcuni pretesero di cambiare i vecchi in giovani, altri promisero l'immortalità, la panacea universale, ossia il rimedio per tutti i mali, venne proposta più volte dalle cattedre delle università più acclamate. Religione Guicciardini, Fra Paolo, De Tau, eccetera, cento altri scrittori cattolici accertano che sul principio del XVI secolo, a fine di promuovere la vendita delle indulgenze, venivano queste presentate come mezzi da sé soli, sicurissimi, infallibili per cancellare qualunque peccato e trarre dal purgatorio qualunque numero di anime. È noto che questo empio traffico, eseguito con pubblico scandalo sulle piazze, sulle osterie, fu l'origine del luteranesimo. Merce Gli inganni nelle misure, nei pesi, nella moneta, nella qualità delle merci, nelle condizioni dei contratti, non si chiamano inganni, si chiamano destrezza, abilità, disinvoltura. Religione Gli inganni tesi alla buona fede dei popoli con falsi evangeli, falsi miracoli, non si chiamano inganni, ma piefrodi. La violenza non si chiama violenza, ma santissima inquisizione. Merce In tutti i tempi, i fabbricatori e i venditori tentarono di restringersi a piccolo numero onde esercitare il monopolio sui compratori. Meglio se unico. Religione L'introduzione di nuovi ordini monastici trova opposizione negli antichi. La loro storia presenta una continua guerra tendente a distruggersi a vicenda e procurare ai loro santi il monopolio spirituale. Poi ognuno si è contattato nel proprio, ogni città è il suo santo, ognuno ha i suoi santi da pregare, che intercedono presso la Madonna, la quale deve intercedere presso una specie di ministero. Ma siamo nel Settecento. Merci Sono noti i numerosi e per lo più nocivi privilegi che i mercanti chiesero ed ottennero dall'indolenza e avidità dei governi. Religione Sono noti gli altari privilegiati e le speciali indulgenze riservate a particolari chiese o d'altari particolari. Merci La fabbrica delle merci false ha tuttavia un limite, giacché la materia ha comunque un valore e sempre ne ha la mano d'opera. Ciò qualcosa vale comunque in ogni caso. Religione La fabbrica dei falsi miracoli, delle false profezie, non ha limite, nulla costando lo spacciare i propri sogni o visioni. Apparenze religiose e indolenza Parliamo della rassegnazione insensata. I turchi, interpretando male il principio che tutte le cose vengono da Dio, si danno a credere di ingrandire il merito della loro obbedienza, nessuna precauzione opponendo contro la peste, così la conservano da secoli. Molti popoli condannano il sistema dei turchi, però lo imitano. In occasione di sventure, alcuni sostituiscono le preghiere alle azioni, dandosi a credere che la religione possa scusare l'indolenza e legittimare l'indolenza. Essi operano tanto meno quanto è maggiore la speranza o la pretesa di un miracolo. Secondo le suggestioni della loro stolta e antireligiosa vanità, il creatore deve muoversi dal suo trono per risparmiare ad essi la pena di muovere un dito. Ma se è certo che egli lascia agire le cause seconde, avendo dotato l'uomo di facoltà capace di prevenirne l'azione malefica e reprimerla, è chiaro che nelle sventure e in qualunque altro caso la nostra condotta è tanto più riprensibile quanto è maggiore la somma delle facoltà rimaste inattive. Cosa direste di un uomo che, invece di prendere giornalmente la medicina, si mettesse giornalmente in ginocchio per essere liberato dalla febbre? Che cosa direste di un altro uomo che, invece di portare acqua per estinguere un incendio, si mettesse in ginocchio davanti all'incendio e recitasse un rosario per impetrare una pioggia dal cielo? La speranza di celeste soccorso non è lodevole se non quando diviene stimolo alle nostre forze. Ha detto saggiamente Seneca Spectaculum Deo dignum hominem cum fortuna comparatum Vedo già quelli che sorridono, che vuol dire che sanno già il latino oppure proprio non ne hanno un'idea. C'è la traduzione Spettacolo degno di Dio è l'uomo messo a confronto con la fortuna Lo stoico ci fa ammirare un uomo che lotta arditamente con la fortuna e non ne cede terreno se non a misura che le forze lo abbandonano Ma siccome riesce più agevole il pregare che l'agire siccome il concorso ai templi frutta sempre qualche cosa ai ministri del culto perciò l'indolenza da una parte e l'interesse dall'altra hanno introdotto nel volgo un sistema di rassegnazione insensata che spesso riuscì fatale al pubblico come ne fece l'esperienza a Milano nella peste del 1630 Oltre l'impertinente pretesa di un miracolo possono infiniti altri pregiudizi fare ostacolo al pronto e benefico esercizio delle nostre facoltà Ne accenerò soltanto due La prima, i maghi, seguaci della religione di Zoroastro riguardando il sole come l'immagine della divinità sulla terra ordinano a chi vuole piacergli di non porre giammai i piedi nudi sul terreno di non sputare nel fuoco e di lasciare bruciare un'intera città piuttosto che sparveggere di sopra una goccia di acqua Secondo è il proverbio ora vero, ora falso come tanti altri cioè che il meglio è nemico del bene Mi sembra una decisione dell'indolenza perciò a torto fu data la filosofia la taccia di inquieta perché la filosofia aggirando lo sguardo soprattutto il sistema sociale ha proposto dei miglioramenti sopra ciascuna parte di essa e forse assai pochi muoveranno l'agnanze contro le nuove macchine introdotte nelle arti i nuovi metodi nelle scienze i nuovi codici nelle amministrazioni Supponendo perfetta somiglianza tra gli abitanti del cielo e quelli della terra il volgo si dà a credere di fare gran piacere a Dio e ai santi recitando spesso le loro lodi e misura il suo proprio merito sul numero delle preghiere masticate Secondo Offrendo voti alle immagini dei santi e praticando altre apparenze esteriori e misura il suo proprio merito sul numero delle candele accese delle muraglie tappezzate e delle canne degli organi Il potere della preghiera è un pazzo pregiudizio Le conseguenze sono ancora peggiori Infatti crescendo indefinitamente nella mente del volgo il valore di quelle preci e di quelle pratiche giunge a cancellare l'orrore dei delitti e fa nascere la lusinga che si possa sdebitarsi di questi cioè dei delitti facendosi creditori di quelli cioè dei meriti acquisiti con le preghiere facciamo un pari e patta mica solo nelle settecento ti assolvo tre ave Maria sette paternosti sei apostoli no, facciamo cinque ave Maria perché è proprio peso il peccato qui non si parla di peccati si parla di delitti poi che è un'altra cosa secondo la religione indiana il bramino che saprà a memoria il Rig Vedas si salverà per ciò stesso quando anche avesse uccisi gli abitanti di tre mondi nei libri sacri detti Tuntra Shaster cioè Tantra Shastra vi sono delle preci per tutte le professioni le situazioni tutte le azioni cioè i ladri e gli assassini trovano specificate le loro giaculatorie e prescritte le cerimonie che devono eseguire per consacrare le loro armi a omicide i mercanti a Roma commettevano nella vendita qualche frode che la polizia abbandonava alla religione per sciogliersi da questi peccatucci il penitente ricorreva ai sacerdoti di Mercurio i quali aspergendolo con acqua e facendogliene bere qualche tazza lo conciliavano con gli dèi sembra fuori di dubbio che questa cerimonia doveva indebolire l'intensità dell'azione penale come ha indebolito e indebolirono sempre le grazie concesse dai principi ai condannati in poche parole per reprimere i delitti fa dopo che la pena sia certa e proporzionata ad essi cioè ai delitti tutto ciò che indebolisce la certezza della pena e ne altera la proporzione con i delitti tende a fomentarli i delitti più singolare era la pratica detta taurobolia o criobolia la cioè la spersione col sangue di toro o d'agnello sulla persona e che trovasi vigente ancora sotto Valentiniano funziona così si scavava una fossa alquanto profonda quello per cui doveva si fare la cerimonia vi discendeva con betulle sacre alla testa e con una corona insomma con un equipaggio affatto misterioso si metteva si metteva sulla fossa un coperchio di tavole traforate si conduceva sopra questo coperchio di tavole traforate un toro coronato di fiori con le corna e la fronte ornate di piccole lamine d'oro si uccideva questa vittima con un coltello sacro il suo sangue scendeva i fori della fossa e quelli che aveva dentro la sotto lo riceveva con molto rispetto presentandogli la fronte la faccia le guance le braccia le spalle insomma tutte le parti del corpo e procurando di non lasciarne cadere una goccia inutilmente alla fine si spostavano le assi ed egli usciva usciva di là schifoso a vedersi tutto l'ordo di sangue con i capelli la barba gli abiti grondanti ma egli usciva anche totalmente mondo di delitti e rigenerato per l'eternità conveniva però rinnovarlo ogni vent'anni altrimenti egli perdeva quella forza che per tutti i secoli futuri si estendeva era un'eternità limitata da questi e simili fatti risulta che siccome l'unico scopo della religione si è di reprimere il delitto con la minaccia della pena cioè l'inferno e di incoraggiare la virtù con la promessa della ricompensa cioè il paradiso risulta che i nemici della religione sono coloro che con pratiche e cerimonie agevoli promettono di cancellare delle pene gravose un proverbio volgare dice che l'invidia segue il merito come l'ombra il corpo la società generale è composta di molte piccole corporazioni ciascuna delle quali preferisce i suoi membri a quelli delle altre comunemente il sentimento dei propri amici è più forte dell'idea delle giustizie dovute all'altrui merito quindi quando si tratta di proporre scegliere raccomandare attestare un amico viene preferito ad una persona indifferente per non dire che ciascuno preferisce il proprio amico a qualunque persona più meritevole e questo per due ragioni l'una costante ed è il desiderio di attestare all'amico la propria amicizia l'altra eventuale ed è la speranza di ottenere da esso qualche cosa per sé o per gli altri in ragione del posto cui viene inalzato do oltre il sentimento dell'amicizia che parla a favore degli uni vi sono delle antipatie che parlano contro degli altri a danno del merito in amandui casi le antipatie religiose delle quali abbiamo parlato nell'antecedente sezione le antipatie civili prodotte ed affezioni politiche sono due forme costanti che tendono e riescono ad escludere il merito in ragione del potere cui si trovano unite le antipatie religiose continuano ad agire anche quando non trovano appoggio nelle leggi e sono arci rarissimi i votanti che pensino e si conducano come il cardinale di Luin Condorcet dichiese a questo cardinale di Luin dichiese il suo voto nell'occasione che aspirava ad essere membro dell'Accademia delle Scienze mi è stato detto rispose il cardinale che voi non siete credente se ciò è vero è una disgrazia per voi e io devo tentare di trarvi d'inganno ma altri mi hanno assicurato che voi siete degno del posto che dimandate quindi voi avrete il mio voto la forza esclusiva delle antipatie civili è massima nelle epoche di cambiamenti governativi attenzione siamo nel settecento nessun riferimento il partito vincitore non trova alcun merito nel partito opposto e con una denominazione ieri onorifica oggi obrobriosa cancella tutti i vostri diritti spariscono quindi degli uomini noti compariscono degli ignoti come le figure nella lanterna magica questi sceneggiamenti che spargono l'amarezza negli uni offrono occasione di riso agli altri crescono o decrescono secondo che il governo è più o meno ignorante un governo avveduto persuaso che l'interesse e la vanità sono elementi più costanti che le affezioni politiche sa conservare tutte le forze sa metterle a profitto e quindi riesce a farsi degli aderenti in mezzo anche ai suoi stessi nemici all'opposto un governo ignorante allontana le persone più pratiche perché questa pratica l'acquistarono sotto il governo precedente diffida delle più intelligenti perché è proprietà dell'ignoranza il diffidare sceglie le più stupide seguendo la legge dell'analogia favorisce le ingiustizie private calpesti il merito sia perché è incapace di conoscerlo sia perché gli è sempre sospetto il merito con questa condotta i governi finirono in tutti i tempi per assicurarsi l'odio e quel che è peggio il disprezzo delle nazioni e delle popolazioni ultimo appunto ultimo capitolo elementi per misurare il successo degli sforzi contro il merito la mancanza di volontà a premiare il merito e di cognizione a scoprirlo si determina dai seguenti sintomi il numero delle persone meritevoli non ricompensate qualità del loro merito distanza tra l'epoca del merito e l'epoca della ricompensa quando c'è la ricompensa a volte la distanza è infinita inferiorità della ricompensa relativamente al merito numero delle persone immeritevoli invece ricompensate qualità e quantità dei beni dati alle stesse a quelli immeritevoli la dorata degli onori e dei privilegi concesse alle stesse agli immeritevoli e lo spazio di tempo entro cui gli immeritevoli ottennero ricompense e i meritevoli rimasero privi siccome a fine di reprimere prontamente e senza arbitrio i delitti vi sono tribunali fissi codici regolari procedure prescritte così sembra che per premiare con giustizia e senza arbitrio qualunque merito fisico intellettuale morale vi dovrebbero essere tribunali codici procedure simili i principi non furono resti a deporre nelle mani dei tribunali punitivi la spada della giustizia perché il maneggio di essa espone a rinascenti odiosità per opposta ragione vogliono ritenere per sé invece il diritto di ricompensare l'esercizio di questo diritto nelle mani dei sovrani produsse mali d'ogni specie negli scorsi secoli e gli immensi beni e i privilegi indefiniti concessi ai cortigiani ne sono il minore infatti prodigalizzando le ricchezze e gli onori ai buffoni ai ciarlatani alle spie agli impostori alle meretrici agli adulatori fecero una guerra sorda alle virtù della società ed eturparono la pubblica morale questo è un danno grave inoltre concedendo le cariche o i poteri civili e militari a uomini che non hanno altro sentimento che il timore di non ricevere l'onorario alla fine del mese ovvero uomini tanto più soperchiatori quanto più persuasi di meritare il pubblico odio con queste nomine dissi arenarono il moto degli affari giornalieri con immenso danno delle popolazioni e autorizzarono ogni specie d'arbitrio vendette parzialità corruzione la nomina ad un consigliere ignorante perfido corrotto riesce mille volte più fatale al pubblico che la condanna di un innocente all'opposto nei tribunali rimuneratori si potrebbe ritrovare quella giustizia quella imparzialità che per quanto gli permettono le imperfezioni della natura umana si ritrova nei tribunali punitivi infatti sia che si tratti di punire un delinquente sia che si voglia premiare un meritevole l'andamento dell'intelletto è lo stesso lo stesso metro di giudizio sia nell'un caso che nell'altro fa duo può verificare dei fatti apprezzarli con rigore applicare loro quella pena o quel premio che le leggi permettono quindi considerando che contro il merito esistono sforzi generali speciali personali che se il falso merito è vano il vero merito è sempre modesto che la bricconeria ha dei mezzi efficaci a cui non possono ricorrere le persone di merito e quelle oneste risulta che vi debba essere una persona pubblica la quale si incarichi delle loro ragioni e che chiameremo avvocato del merito come avere per l'addietro l'avvocato degli orfani e beh attualmente l'avvocato del fisco esistendo un avvocato del merito egli porrebbe in evidenza molti fatti che la modestia del meritevole nasconde e che l'ingratitudine dimentica primo poi egli questo avvocato del merito fiaccherebbe le corna all'ignoranza presuntuosa che usurpa gli altrui diritti egli smaschererebbe presto la calunnia che sebbene sventata tende sempre a scoraggiare il meritevole infine incaricandosi dei diritti dell'uomo di genio egli prolungherebbe la durata della preziosa sua esistenza spesso accorciata dalle contraddizioni dai rammarichi dai bisogni allorché l'idea del merito si impiccolisce al punto da confondersi con l'idea del prezzo materiale si deve dire che va abbassandosi verso i gradi estremi infatti allorché il merito è grandissimo si dice che l'atto l'invenzione il servigio il sacrificio non ha prezzo con che si intende di asserire che gli individui non hanno bastante ricchezza materiale con cui contraccambiarlo in questi casi il merito riceve il compenso dalla stima pubblica ricchezza ideale che non dipende dai privati isolatamente ma dalla volontà associata di essi e qui finisce la lezione di Melchiore Gioia ora andate a casa prendete un libro di Melchiore Gioia e studiate e cerchiamo di vedere quanto di quello che ha detto è attuale anche oggi penso che questa sia la lezione del vostro concittadino illustre grazie a voi grazie a tutti